Ciao ragazzi bentornati e benvenuti in questo nostro nuovo video guardate oggi sono in mezzo a due tra le mie auto elettriche preferite la Tesla Model 3 Long Range e la Volkswagen ID.3 versione Pro ragazzi oggi non sarà un video di guida, non sarà un video di prove particolari ma sarà un video che poche persone fanno perché che cosa è che analizzeremo? una delle funzionalità più comode delle auto elettriche ovvero quello di essere connessi e di poter avere un'applicazione sul proprio telefono che ti permette di comandare determinate funzionalità che dopo andremo a guardare quindi il video di oggi sarà sostanzialmente un confronto tra il mondo Tesla e la connessione tra smartphone, macchina e l'interazione dei comandi che tu applichi alla macchina e il mondo Volkswagen chi lo farà meglio, chi funzionerà meglio, chi sarà più fluido e più rapido e chi magari non farà qualcosa di quello che noi gli comandiamo la Cammy vi ha già dato un indizio di una possibile rincitrice di questa battaglia però insomma per correttezza faremo il nostro solito bel confronto ragazzi e lo decideremo insieme a questo punto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivate la campanella delle notifiche e soprattutto seguiteci su Instagram dove postiamo contenuti un po' in inti rispetto al solito vi ricordo ragazzi che c'è anche il gruppo di owner italiani del mondo Volkswagen si chiama Volkswagen ID Enthusiast Club Italia un nome un po' lungo ma sicuramente dentro ci sono un sacco di contenuti interessanti per chi vuole essere curioso e attratto da questo mondo se avete sentito il nostro cane c'è anche lui e abbaia anche lui adesso ragazzi andiamo avanti e ragazzi innanzitutto un confronto viene naturale farlo anche soltanto guardando gli interni del mondo Tesla molto più minimalisti a quello che è il mondo Volkswagen ma non siamo qua per questo ragazzi andiamo quindi nell'applicazione Tesla che abbiamo appositamente chiuso nel caso di iPhone facendo lo swipe verso l'alto e chiudendo l'applicazione dal background quindi l'applicazione è totalmente chiusa a questo punto schiaccio per la visualizzazione dell'app come vedete l'app ci mette un attimo per connettersi alla macchina secondo me un 10-15 secondi ce li impiega tutti e ti dice quando è stato fatto l'ultimo aggiornamento non dell'applicazione ma proprio di connessione con la vettura a questo punto cosa che vi si presenta? innanzitutto avete come prima cosa una delle caratteristiche principali di quello che è il mondo Tesla ovvero la personalizzazione ma non tanto personalizzazione nel quanto di personalizzarsi quello che è l'aspetto della macchina e l'applicazione ma la customizzazione dell'applicazione ovvero se la tua macchina è rossa perché io devo vedere l'immagine di una macchina standard? io vedo l'immagine della nostra macchina che è grigia e la stessa cosa voi la ritrovate ovviamente anche all'interno dello schermo Tesla quindi vedete che qui la nostra macchina è grigia ed è grigia monta gli aero wheel abbiamo gli aero wheel ma Tesla non si è fermata solo qua se io apro la portiera vedete che sia dall'applicazione che dallo schermo mi mostra che la portiera è aperta tiro giù il finestrino ho il finestrino abbassato da schermo ma non da applicazione però comunque insomma già veramente veramente tanta roba chiudo la portiera nuovamente tutto si chiude adesso entriamo un po' davvero più nel vivo dell'applicazione allora partiamo dalla parte alta sull'angolo in alto a sinistra la rotella delle impostazioni nella quale voi potete vedere quello che è la posta in arrivo all'interno del vostro account Tesla lo screen del tesoro, il vostro account personale e le notifiche potete impostare il riconoscimento quindi lo sblocco dell'applicazione con il Face ID e la sincronizzazione della vostra agenda sul lato opposto, sul lato destro, in alto a destra avete lo screen del tesoro nello screen del tesoro voi cos'è che avete? troverete tutto quello che riguarda la vostra pagina di referral code quindi ogni possessore di Tesla ha la possibilità di condividere un proprio codice referral tra l'altro ragazzi anche noi abbiamo il nostro codice referral che vi consente quindi di ottenere 1500 km di ricarica voi e chi compra una Tesla gratuiti proprio per questa sorta di programma di fidelizzazione che Tesla cerca di fare iniziamo dalla parte ovviamente più importante la percentuale di batteria che viene indicata chiaramente insieme al nome della macchina in alto nel centro schermo 81% ti dice che la macchina è parcheggiata addirittura che la macchina è in marcia come in questo caso io metto D e vabbè ovviamente ci vuole un attimo nella sincronizzazione ma se io mi muovo la macchina dirà che è in marcia ed indica addirittura la velocità a cui la macchina sta andando abbiamo la possibilità di attivare il clima di aprire il frank e di chiudere o aprire la macchina vedete questi tre cerchiolini sotto che sono ovviamente quelle che sono le funzioni più rapidi e più comode da fare abbiamo poi l'aspetto di media nel quale noi possiamo comodamente attivare o disattivare una canzone alzare e abbassare il volume ovviamente non lo faccio in questo momento perché se no dopo per il copyright abbiamo 150.000 problemi abbiamo poi la parte di chiave digitale che ovvero è quella funzione che permette nelle model 3 e nelle model Y di avere il vostro iPhone o comunque il vostro smartphone come chiave digitale della macchina ovvero voi non avete bisogno di avere questa la key fob Tesla da averla sempre dietro con voi ma vi basta avere il vostro smartphone e la macchina si apre e si chiude in automatico abbiamo poi sotto l'aspetto di climatizzazione che in Tesla funziona veramente veramente bene la connessione tra vedete anche il super pollice in su della cami la connessione tra macchina e applicazione è veramente velocissima ci mette 10-15 secondi e funziona praticamente ovunque ovviamente tranne dove non c'è la possibilità di ricevere connessione tra o il telefono o la macchina ovviamente e se è al 20% e se è brava, brava cami ragazzi o se la macchina è sotto il 20% di batteria che allora a quel punto interviene una modalità sostanzialmente di save quindi di conservazione in cui non vi fa accendere la climatizzazione non vi fa impostare la modalità cane, camp o quella del climatizzatore attivo non fa andare la modalità sentinella nella parte climatizzazione voi potete ovviamente alzare o abbassare la temperatura come vedete è istantaneo magari Camise mi inquadri qua io adesso sono a 20, abbasso a 16 e vedrete che è veramente quasi istantaneo il cambio di temperatura tra telefono e macchina veramente una connessione rapidissima ovviamente si possono riscaldare riscaldare perché purtroppo i sedili della modalità non sono raffrescati anche i sedili vedete anche qua sto scaldando il mio sedile e praticamente subito inizia a scaldarmi anche il... insomma inizia a scaldare proprio il sedile quindi la connessione con la macchina altra funzionalità bellissima è quella che ti indica la temperatura all'interno dell'abitacolo in questo caso 22 gradi veramente comodo per quando magari lasciate la macchina parcheggiata al sole ragazzi dove vedrete delle temperature stellari veramente stellari noi abbiamo provato a vedere anche 65-68 gradi all'interno dell'abitacolo comandi qua potete fare che cosa? ricircolo dell'aria guardate adesso schiaccio ricircolo praticamente un secondo dopo la macchina subito apre i finestrini per questa piccola porzione proprio per fare il ricircolo dell'aria chiudo puff istantaneamente chiude i finestrini potete far che cosa? far suonare il clacson sentite? tap subito veramente istantanea la connessione aprire il vano davanti il frank in cui vi dice siete sicuri che lo volete fare? sì apre davanti aprire il vano dietro siete sicuri? sì addirittura ragazzi se voi avete l'home link in questo caso noi ce l'abbiamo potete anche aprire il cancello di casa vostra proprio utilizzando semplicemente lo smartphone ovviamente la macchina deve essere nei paraggi del cancello modalità wallet quindi magari avete lasciato la macchina a un parcheggiatore ovviamente cosa che ha molta più logica in America rispetto che da noi potete appunto attivare la modalità wallet inserendo direttamente un pin dalla vostra applicazione attivare o disattivare la modalità sentinella e impostare uno speed limit mode magari avete non lo so un ragazzo che ha appena preso la patente ovviamente non ne ho patentato perché sennò non può guidare la Tesla impostate un 130-140 come limite che sapete che è diciamo il range massimo e siete sicuri che vostro figlio o chi per esso non potrà superare i 140 come limite di velocità avete poi tutto quello che riguarda il mondo della ricarica nella quale potete scegliere la percentuale di batteria al quale volete impostare che la macchina arrivi in maniera veramente comoda e precisa ovviamente noi qua lo vediamo in percentuale perché abbiamo impostato la percentuale di ricarica ma se voi lo impostate in chilometri l'autonomia vedrete i chilometri con il quale la macchina arriverà a ricaricare e sotto cos'è che vedete? vedete tutto quello che è il mondo dei supercharger o dei destination charger nella vostra vicinanza e poi potete ovviamente anche aprire lo sportellino di ricarica che come vedete istantaneamente si apre lo schermone ce lo indica e la macchina si predispone per la ricarica veramente tutto in maniera rapida avete poi la posizione nella quale potete localizzare la vostra macchina e sfruttare alcune delle modalità tipo modalità summon che vedete subito sotto con la quale potete muovere avanti o indietro la vostra vettura ovviamente se montate il pacchetto di full self driving oppure avete comprato proprio soltanto il pacchetto in cui c'è la possibilità di avere la guida autonoma non al massimo potenziale ma avere anche la modalità summon e poi avete che cosa l'assistenza Tesla ragazzi uno dei service a mio avviso più intuitivi e facili da utilizzare schiacciate su assistenza e scegliete quello che è il vostro problema avete un danno al parabrezza, rumorosità, esterni, software insomma quello che sono i vostri problemi schiacciate la voce, fate avanti aggiungete una descrizione delle foto inviate la prenotazione è sempre nell'arco di una o due settimane in base a quello che è la gravità del problema e spesso Tesla vi chiama e vi informa che c'è un appuntamento disponibile in anticipo ragazzi a questo punto penso di aver esaminato in maniera abbastanza esaustiva Cammy cosa dici? anzi la Cammy fa troppo questa applicazione e la cosa che veramente impressiona è la rapidità e l'affidabilità con il quale questa applicazione funziona mondo Volkswagen ragazzi ok ragazzi allora schiacciamo per aprire l'applicazione e come vedete ciao Renato ti dice qua abbiamo già una personalizzazione un pochino più votata al lato diciamo cliente dove ti dice appunto chi è l'owner della macchina qui cos'è che vedete? vedete subito quella che è l'autonomia della macchina 224 km o 54% di batteria sotto con gli ultimi recenti aggiornamenti vedete anche quello che è l'aspetto di climatizzazione adesso io dalla macchina spengo l'aria condizionata quindi off e imposto che la voglio attivare da remoto quindi vado su climatizzazione schiaccio attiva vedete che c'è questa rotellina di sincronizzazione e vediamo che quanto ci mette già qui ragazzi vedete come è molto più lunga la fase di connessione con il veicolo Tesla a quest'ora l'aveva già fatta partire vediamo abbiamo Fede la rotellina qua continua a girare e all'interno della macchina non c'è ancora alcun segno di vita di una climatizzazione attiva dopo parecchio tempo la climatizzazione è partita e ci dice per quanti minuti rimarrà attiva vedete per 5 minuti e voi a questo punto schiacciate attiva e la spegnete oppure rischiacciate attiva e l'applicazione vi rimanda all'attivazione appunto della climatizzazione quindi è carina l'idea che vi indichi per quanto tempo nel frattempo io schiaccio i pedali del freno perché sennò noi qua moriamo di caldo per quanto tempo la macchina utilizzerà la climatizzazione allo stesso tempo però è limitativa perché spesso 5 minuti sono troppo pochi o per raffrescare la macchina che magari è rimasta sotto il sole per tanto tempo o magari voi state scendendo uscendo dall'ufficio un po' ci mettete invece la Tesla ve la lascia attiva veramente veramente tanto tempo come avete potuto vedere però ragazzi è sicuramente più lunga la fase di connessione con la macchina quindi tenetela in considerazione magari quando state appunto facendo questa operazione a questo punto avete la parte di modifica nella quale potete personalizzare la schermata principale aggiungendo il livello di carica o la parte di climatizzazione quindi poco di più a questo punto avete sotto altre funzioni avete la funzione della macchina nella quale voi entrate nella parte più dedicata all'aspetto di personalizzazione qua vedete quello che vi dicevo prima nei confronti di Tesla ovvero Tesla vi indica la vostra macchina in questo caso avete una ID.3 tipo ideologica bianca con i cerchi super grandi eccetera eccetera si parla di un prossimo aggiornamento in cui verrà modificato anche questa parte qua quindi voi vedrete la vostra ID.3 ovviamente dovete mettervi un attimo lì a confronto le due app però anche dire ok Volkswagen la sta facendo da poco più di un anno diamogli tempo per aggiornare Tesla all'applicazione da più di 10 anni quindi sicuramente è diverso qua vedete di nuovo la climatizzazione nel quale potete cambiare la temperatura io adesso ho impostato 20 gradi vediamo sincronizzazione in corso vediamo quanto ci mette a mandare i 20 gradi alla macchina nel frattempo io vi faccio vedere altre cose qua avete orari di partenza quindi voi potete impostare direttamente dall'applicazione a che ora avete intenzione di partire e quindi far arrivare la macchina a quella determinata percentuale di carica e a farla trovare magari calda o fredda nel caso di quella funzione come vedete ho impostato 20 gradi ma non c'è alcuna interazione con la macchina è una cosa su cui io punto davvero su cui diciamo Volkswagen deve davvero incrementare anche qua un po' come Tesla avete il centro di service più vicino nel quale potete scegliere quelli nella vostra zona le concessionari normalmente vi fanno impostare il loro quindi quella dove avete comprato la macchina avete poi la funzione impostazione nella quale potete impostare anche qua come sulla Tesla il limite di carica noi manteniamo il 70% potete poi impostare corrente di carica CA quindi vedete anche qua insomma qualche traduzione non proprio perfetta ridotta nel quale magari vi consuma meno se siete magari con un impianto di casa a 3 kilowatt quindi avete paura di assorbire troppo sblocca il cavo automaticamente quindi ogni volta che voi vi avvicinate alla macchina la macchina sblocca il cavo quindi voi lo potete comodamente togliere questa è una funzione molto comoda climatizzazione ausiliare che è un'impostazione che Tesla non prevede nemmeno ovvero che voi arrivate alla macchina la aprite e lei già ha iniziato a riscaldare o raffrescarla zone climatizzate quindi voi qua potete scegliere quali zone devono essere climatizzate per prima quindi in questo caso mi verrebbe da dire se tu sei spesso da solo devi scegliere magari il lato sinistro per dire che devi iniziare per prima come zona di climatizzazione avete poi la parte di pacchetti di dati che potete comprare quindi vedete come vi rimanda direttamente al sito Volkswagen nella quale potete comprare dei pacchetti di connessione quindi la macchina può diventare un hotspot wifi pacchetti insomma ragazzi un po' costosi che non offrono veramente dei servizi insomma vedete 14,95 per 90 giorni per avere 5 giga insomma non ve ne farete nulla avete poi la parte di servizi online che è appunto quello che riguarda più la parte di aggiornamento di mappe online calcolo dell'itinerario climatizzazione sostanzialmente potete attivare o disattivare quello che è l'utilizzo dell'applicazione quindi magari non volete avere determinate funzioni perché vi consumano più dati cellulare e potete decidere di disattivarlo avete poi la parte relativa alle mappe in questo caso voi non potete localizzare la vostra macchina come è possibile con la Tesla quindi voi vedete la vostra posizione e quelle che sono i sistemi di ricarica attorno a voi sistemi di ricarica che girano su il sistema WeCharge quindi andiamo nell'ultima sezione che è quella più dedicata all'utente vedete ovviamente c'è il profilo di Renato nella quale non entro perché ci sono i dati personali avete la sezione WeCharge con la panoramica delle vostre ricariche il contratto che avete scelto delle tre opzioni del mondo WeCharge le ricariche in corso che sono state fatte con relativo aspetto di mondo prezzi e kilowattora immagazzinati la carta di ricarica che c'è dentro e i dati per il pagamento insomma abbiamo poi la parte di contatti servizio clienti disponibile H24 7 su 7 che noi abbiamo provato a contattare per un problema che abbiamo avuto con WeCharge e il soccorso stradale famiglia di o di tutti gli altri modelli perché questa applicazione è disponibile anche per per le plug-in hybrid del mondo del mondo Volkswagen e non solo insomma ragazzi a questo punto avete avete capito come il mondo diciamo delle applicazioni è simile ma molto diverso con Tesla abbiamo un sistema veramente facile al 100% affidabile e rapido nell'interazione quindi io dico abbassa il climatizzatore la macchina abbassa il climatizzatore nella distanza di neanche un secondo qua non è sempre così la macchina ha un suo modulo 4G ma spesso non prende spesso ha poca connessione cosa che invece con Tesla succede raramente quindi sicuramente c'è molto da lavorare per il lato Volkswagen però veramente confido che dato che si parla di una grande casa automobilistica sul quale sta puntando tantissimo sul mondo dell'elettrico che si daranno veramente una grossa mossa per migliorare tutti questi che sono alla fine bug ragazzi ovviamente la super vincitrice è la Tesla noi ce l'aspettavamo perché abbiamo avuto modo di utilizzarle entrambe per parecchio tempo e Tesla è perfetta sotto lato applicazione veramente perfetta però però c'è Volkswagen c'è c'è l'app c'è per quelle funzionalità base ciao ragazzi il video è finito se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale mi raccomando attivate la campanella delle notifiche